...da Torino, Riccardo Molinari che è il vice segretario della Lega Nord. Molinari, come va? Buongiorno, buongiorno, bene, bene. Come mai scegliete di andare a Mineo, in Sicilia, a fare campagna elettorale per il Veneto? Ma, credo che Matteo Salvini non vada in Sicilia per la questione del Veneto. In Veneto c'è stato ieri tutto il giorno, tenendo anche un discreto, importante successo di partecipazione ai vari incontri che ha trattenuto con Luca Zaia. Il problema di oggi, per cui Matteo Salvini va in Sicilia, l'abbiamo appreso dall'intervista ai nostri simpatizzanti del movimento Noi con Salvini, è un problema locale legato alla tematica nazionale dell'immigrazione che è e resta un problema tanto in Sicilia quanto nel resto del paese.